Quinta corsa è il centrale del convegno di oggi, un doppio chilometro per i 4 anni, prova di inseguimento sono in 6 al nastro di 2060 metri. La prima fila per Cartesio P, Roberto Vecchione, commento Luis, Mario Minopoli Junior, Chantal Griff, Ferdinando Minopoli, Casteggio Antonio Di Nardo, Clemente Clema, Romolo Sani in prima fila. Da sola in seconda fila del primo nastro, Clever Band LF, Giuseppe Trinchillo, in segue da sola a 20 metri con il numero 7, Cosciona S con Tommaso Gambino. Valido il primo segnale con Cosciona S che vede aumentare il suo divario rispetto ai partenti allo start. L'errore in curva di Cartesio P che aveva lasciato il passo a commento Luis, se sbaglia anche quest'ultimo. Si ritrova al comando Clemente Clema, subito attaccato da Casteggio, poi Clever Band LF, quindi gli altri con Casteggio che gradatamente ottiene il via libera da Clemente Clema, ma viene subito impegnato da Clever Band LF. Poi Chantal Griff e Cosciona S che ora ha recuperato la penalità e viene subito all'esterno di Chantal Griff. Si sono eliminati in errore Cartesio P e commento Luis. Casteggio che deve replicare è Clever Band LF, i primi 800 metri sono in un minuto secco, con partenza da fermo. Ora desiste Clever Band LF e torna a sistemarsi terza in corda davanti a Chantal Griff, rimane così scoperta all'esterno, la sola Cosciona S. Clemente Clemar segue sempre Casteggio. Siamo all'attacco della penultima curva, Casteggio, Clemente Clemar, Clever Band LF, Cosciona S all'esterno e a chiudere Chantal Griff. Ultimo quarto in 38 per Casteggio che comanda ancora su Clemente Clemar, Clever Band LF, Chantal Griff e Cosciona S. che perde battute all'esterno, frazione ora, l'errore improvviso di Casteggio, lascia Clemente Clemar al comando. Davanti a Clever Band LF, Chantal Griff e sbaglia anche Cosciona S e allora sono soltanto tre i superstiti con Clemente Clemar che accelera. 13,8 l'ultima frazione ma Clever Band LF non lo perde di vista. Clemente Clemar al comando, Clever Band nella sua scia, poi Chantal Griff. Clemente Clemar in vantaggio su Clever Band LF e Chantal Griff. Clemente Clemar che allunga da Clever Band LF e Chantal Griff. Clemente Clemar che si sta staccando da Clever Band LF e Chantal Griff. Non cambia più nulla fino al traguardo. Vince Clemente Clemar davanti a Clever Band LF e Chantal Griff. 5, 6, 3 l'arrivo ufficioso della quinta di Capannelle. Scusate, 2,31,2 sul mio cronometro. Media intorno all'1,15,7 per Clemente Clemar e Romolo Sani. Alla guida al training, i colori della signora Maria, vinci guerra per il figlio di Ganymed. che si ritrova al comando sull'improvviso errore di casteggio e poi allunga in retta e vince netto su Clever Band LF e Chantal Griff. Unici superstiti di una corsa falcidiata dalle rotture. Lì nello studio. Grazie. 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 Grazie.